Buongiorno a tutti, allora io ho due talk, uno riguarda QGIS, che è un GIS, un sistema di informazione geografica, software libero, è il miglior GIS in circolazione, il più usato, insomma il più accessibile per mille motivi praticamente. Io mi chiamo Amedeo Fadini, c'è qualche nota su di me, al momento faccio, oltre al lavoro autonomo, faccio l'assegnista di ricerca presso l'Istituto di Scienze Marine del CNR qui a Venezia e mi occupo da una decina d'anni di software GIS. Sono qui anche in rappresentanza di gfos.it, che è un'associazione nata appunto nel 2007 proprio per pubblicizzare il software geografico libero e gli open data geografici, i dati geografici liberi. Perché nell'ambiente del GIS, è successo qualcosa? No, nell'ambiente del GIS comunque giravano tantissimi soldi di licenze, adesso si è un po' ridotto. Normalmente chi acquista un sistema GIS è l'ente pubblico e quasi sempre l'ente pubblico ha anche difficoltà a capire quello che sta acquistando. Velocemente, io ho due o tre slide riciclate che cerco di fare velocemente per darvi qualche indicazione pensando magari di avere davanti persone che hanno background diversi. Poi qualsiasi cosa mi fate domande oppure in giornata ci sentiamo, siamo qui io e anche Enrico in rappresentanza di gfos. Un GIS è un sistema, in italiano sistema informativo territoriale, composto da dati, procedure, software e persone. Ci vuole anche la persona formata per capirci qualcosa del GIS. Un attimo mi si è aperta un'altra finestra ma non c'entra molto con quello che c'è lì. Normalmente una volta si diceva che viene usato come sistema di supporto alle decisioni, quindi metto insieme i dati in un ambito terreno, in un dato ambito geografico e posso dare delle domande a delle risposte praticamente. Questo è un video interessante, poi magari lo guarderete con calma, è del 2007 quando è nata l'associazione e diceva effettivamente che non tutti parlano di GIS, ma i GIS parlano di noi, perché comunque vengono utilizzati per progettare le strade che percorriamo, non i ponti, ma per decidere ad esempio le aree fabbricabili, sono insostituibili, per capire se un'area è a rischio idrogeologico o meno, oppure quanto può incidere il rumore di un aeroporto nella zona circostante e se nella zona circostante ci sono ad esempio degli habitat protetti dall'Unione Europea. Chiaramente metto insieme questi layer, faccio dei calcoli e ottengo delle mappe che mi dicono qualcosa. Siccome i GIS parlano di noi, i dati e anche la possibilità di usare un GIS, cioè siccome i dati come dicevamo prima sul rumore o sulle specie protette sono in formato GIS, è importante che ci sia un software open source che consente a me cittadino di conoscere quei dati tanto quanto li può conoscere il mio comune, ok? Perché se il mio comune dice no, non incide sull'area protetta perché si trova a più di due chilometri e mezzo, io devo avere la possibilità di verificare se evidentemente il perimetro dell'area protetta utilizzato è stato giusto, eccetera. Quindi la direttiva Inspire è una mano santa, una direttiva del 2007 che sostanzialmente impone che tutti i dati geografici e ambientali, di conseguenza anche la cartografia di base, siano pubblicati e disponibili online senza nessun costo. Ci sono delle organizzazioni internazionali, Osgeo, gfos.it e local chapter di Osgeo, per le informazioni su QGIS Italia che è anche una importante comunità di persone e di sviluppatori italiani, quindi nel mondo veramente siamo ben rappresentati, direi Enrico, come sviluppatori italiani di QGIS, trovate insomma anche un sito qgis.it. Perché serve un GIS e qual è la differenza con il CAD? Mentre il CAD sostituisce il tecnigrafo, lavora sulle geometrie, prende delle misure, però la superficie della Terra è simile ad una sfera e le misure vanno prese secondo dei triangoli sferici. Insomma, qui poi lo vedremo. Quindi la distanza tra due punti è un arco di cerchio massimo e abbiamo l'attitudine e longitudine che ci indica un punto. Anche solo l'attività di modificare le coordinate che adesso noi otteniamo anche su GPS del telefonino con delle accuratezze che lasciamo stare, sì che andrebbero un po' indagate, bisogna un po' sapere anche come funziona, no? Anche semplicemente per andare al concerto di Vasco e per impostare il navigatore, no? Comunque per convertire quei due numeri lì, no? 12,44 e 45,84 più o meno nella zona del Veneto, in coordinate in mappa, coordinate piane, quindi cartesiane che sono X e Y, si utilizza comunque una proiezione. Allora qui c'era un errore, ok, coordinate polari non c'entra niente, e si utilizza appunto una proiezione cartografica. Allora io quando mi distraevo a scuola stavo lì a guardare il plenisfero con questa groinlandia particolarmente pronunciata, particolarmente grande e questo succede perché in verità la proiezione di mercatore, no? Cioè questo cilindro qua, distorce particolarmente gli oggetti che sono ai vertici. Questo è un sito interessante che consente appunto di verificare come cambia, no? La dimensione di uno stato al variare della latitudine. Quindi i paesi più distanti, no? Dall'equatore hanno una distorsione maggiore. Qui fa vedere che la superficie reale dell'Africa di fatto contiene anche India, Cina e Stati Uniti, mentre invece normalmente noi la Cina la vediamo magari grande come tutto il Sahara perché c'è questa deformazione della latitudine, no? Tutto chiaro fino a qua? Un attimo che mi sono incasinato, ma è solo perché queste sono le schede aperte, tornerà fuori anche quella di prima? Sì, è la prima, ma adesso un attimo che... Posiziono un po' più di tre quarti, sì ma non capiva, benissimo. Quindi qualche link, cosa sono le proiezioni praticamente. Dal punto di vista GIS tutto questo, le equazioni che consentono di fare la proiezione, la trasformazione da una proiezione all'altra, perché poi abbiamo anche modelli diversi dell'elissoide, no? Sono calcoli abbastanza complicati, ma alla fine si traducono nel conoscere bene un numero da inserire nel software, no? Che in genere è un codice del tipo EPSG 32632, che è valido in una specifica area geografica, no? Quindi, ad esempio, questo era l'esempio, cosa avevo detto? 32632? Proviamo un attimo a cercarlo, che appunto corrisponde a quello, è il sistema di riferimento con cui troviamo i dati dell'ISTAT sostanzialmente. Vedete che è valido per questo fuso qui, perché al di fuori di quell'area geografica le proiezioni sono un pochino troppo grandi. Allora, se devo effettivamente fare una mappa, no? Per raggiungere il ristorante del mio matrimonio, che è l'ambito in cui ho visto delle mappe disegnate più spesso, no? Magari a partire dalla Polonia fino ad arrivare a un paese sperduto del Veneto, può anche andare bene. Però se comunque io uso, diciamo, il sistema di riferimento sbagliato, quindi ottengo una distorsione eccessiva per una mappa su cui poi faccio pagare le tasse, quindi ad esempio un piano urbanistico che definisce quale aree sono fabbricabili o meno, capite che va un po' meno bene. Oppure l'esempio di prima sul percorso di un metanodotto, per esempio, e quindi capire se incide o non incide, se intercetta o non intercetta una faglia o quant'altro. Quindi, sistema di riferimento è una nozione interessante. Io mi sono appassionato molto ai GIS, vanno considerati come uno strumento, non tanto come Word è uno strumento per scrivere testi, ma molto di più come l'alfabeto è uno strumento per scrivere poesie o il dizionario. Quindi, alla fine, quello che noto nelle richieste, poi magari Enrico mi smentisce, è che manca in realtà un'idea di fondo, un metodo su quello che si deve fare, da parte dei professionisti del GIS, da parte di studenti di geologia che lo devono usare, e che si mettono lì, smanettano, imparano, fanno una mappa e poi a un certo punto arrivano in un ambito in cui non sanno più continuare, perché dietro non c'è un metodo. Basta. Nel senso, questa è la parte... Se a voi va bene, proverei a farvi vedere qualcosa di live, di come funziona il programma, per cui devo necessariamente... Quindi proviamo un attimo a caricare un paio di layer e vedere come funziona, così vi fate un'idea, se è difficile, e poi eventualmente insieme passate un attimo al tavolo dove ci siamo noi, anche nel pomeriggio, e poi arrivano anche un po' di gente che non ho visto se sono... Sì, va bene, c'è anche Daniele, Enrico, ok? A cui potete chiedere una mano su come si utilizza QGIS, insomma. Allora, questa è la nostra... Si vede qualcosa? No, non si vede niente. Un attimo che devo passare a una risoluzione un po' più piccolina. Perfetto, bene. Allora, questa è la nostra interfaccia di QGIS, anzi partiamo pure da un nuovo progetto, quindi ho una serie di cose e ho già caricato due livelli. Questi livelli non li ho io qui in locale, ma vengono da un server. Quindi questa è una carta di base della nostra zona, vediamo l'aeroporto. Vedete che man mano che io zoomo, viene fatta la richiesta al server e mi viene scaricata direttamente una immagine. Quindi questa va benissimo per lo sfondo. Però normalmente un dato QGIS è fatto da una geometria e collegato a quella geometria ci sono una serie di attributi. Quindi a me potrebbe essere interessante capire, ad esempio, nella zona in cui ci troviamo che tipo di suoli ci sono. Ieri ho spiegato che i dati stanno in genere su geoportali regionali, quindi sia la cartografia di base, quindi gli edifici, le strade, eccetera, che adesso si chiama DB geotopografico, qua non riesco a ingrandire forse, però per quel del Comune di Venezia, sia anche un sacco di altri elementi. Quindi qui proviamo a cercare, per esempio, suoli e c'è un dato molto interessante che è la carta dei suoli che io ho scaricato prima ed è in vettoriale. Quindi all'interno di questo progetto aggiungo dei dati. La cosa essenziale è che il GIS lavora sempre con un progetto e dei dati collegati. I dati potrebbero essere modificati, io ricarico il progetto e lo trovo, quindi ho più progetti con dati diversi, non ho un contenitore unico, non ho un file unico. Questi dati possono essere anche in giro. Quindi vado a cercare i dati che ho scaricato prima e quindi qui ho un browser come gestione dei dati oppure qui sono le varie possibilità. Già a colpo d'occhio vedete che come tipologia e formato di dati ce ne sono parecchi, insomma. Ci sono per fortuna degli standard anche. Allora, ci sono delle rogne perché questi dati, quindi la carta suoli, in realtà non ha un formato molto semplice, comunque questo è il formato di interscambio più vecchio che esiste, che è il formato per i dati vettoriali. Esri shape file è composto perlomeno da tre file che sono questi. L'SHP, L'SHX e il DBF praticamente all'epoca hanno detto nel DBF mettiamo la tabella con gli attributi e ogni riga ha una geometria. Nell'SHP mettiamo le geometrie e poi ci facciamo un file di collegamento. La struttura è molto simile a quella di un database. Quindi questo è il set minimo per riuscire a distribuire un dato vettoriale. Poi ci sono una serie di altre cose che mi dicono in che sistema di riferimento è oppure qui c'è anche un file di indice per esempio. A questo punto ah sì adesso mi vede anche lo ZIP a questo punto carico il file vettoriale. Ok. Si è portato dietro anche uno stile o una leggenda quindi qual è il vantaggio? Che questi poligoni che vedete qui sono interrogabili vediamo se è vero perfetto non sono particolarmente significativi nel senso che gli attributi sono li vedete qua L1B L2B3 L3B33 L4ZRM1 quindi capite che è importante anche capire che qui invece abbiamo un D D3 D3B1 quindi abbiamo vari livelli queste codifiche sono anche un pochino criptiche vediamo c'è un pdf che ce le spiega per cui è anche importante capire quindi B è sta per pianura alluvionale del fiume Brenta D sta per pianura costiere lagunale poi abbiamo qualche geologo in sala? C'è un geologo in sala? No potrebbe succedere come annuncio se c'è una frana però capite più o meno il senso poi ovviamente un'altra cosa un altro livello particolarmente necessario io posso spegnere questo livello accendere questo è banale insomma perché anche in Google Maps accendere ad esempio un livello di immagine satellitare di Bing oppure ci sono anche ulteriori cose un altro livello sicuramente che ci interessa e qui vado direttamente a caricare un vettore giusto per modificare un altro livello che ci interessa è sicuramente i limiti amministrativi cioè capire i confini i confini comunali e qui io ho un file che tengo direttamente quindi faccio aggiungi chiudo benissimo qua già mi dice che lui in quanto computer e in quanto relativamente stupido non conosce il sistema di riferimento da utilizzare per cui se vado a fare zoom su layer non sa neanche dove sia no questa è la scusate questa è la carta dei suoli se vado su questo che è layer comunale zoom su layer trovo effettivamente tutti i comuni del Veneto però stanno da tutt'altra parte stanno molto fuori dalla terra perché qui abbiamo delle coordinate che dovrebbero andare da più 90 a meno sì 90 nord in questo caso abbiamo 12 e 45 quindi vanno da meno 180 a più 180 e da più 90 a meno 90 come x e y latitudine e longitudine quindi andiamo a metterci un sistema di riferimento più utile per una cartografia che era esattamente quello di prima ok vedete che ha cambiato forma il comune di Venezia e gli diciamo soprattutto che questo layer ha un sistema di riferimento che lo so io o dovrei saperlo dal sito da cui l'ho scaricato che è 3003 Gaussbara Fuso Ovest e quindi qui abbiamo la sovrapposizione del layer capite che vado a cambiare le modifiche vado a cambiare lo stile lo stile del layer e decido di dargli a questo poligono una cornice di colore rosso con una linea tratteggiata e quindi a questo punto posso anche riattivarmi lo sfondo lo sfondo che avevo prima vediamo se recupera qualcosa ok e quindi posso avere già un qualcosa di significativo per quel che riguarda la la carta dei suoli con gli attributi chiaramente come attributo di ogni comune ho il codice istat e il nome del comune con gli attributi posso aggiungere alla mia mappa anche delle etichette allora un attimo che ci perdiamo sì quindi questo è lo strumento per aggiungere le etichette dico semplicemente etichetta con il campo nom com e quindi trovo i nomi del comune a questo punto se io devo descrivere più o meno la podologia della zona in cui mi trovo e anche il limite verifico che il limite del comune di Venezia coincide posso anche già fare una piccola stampa come si fa una stampa devo creare una nuova stampa quindi all'interno del progetto ho una mappa generale e poi ho anche una serie di modelli di stampa e sul layout di stampa aggiungo una serie di elementi se non ci metto la scala di fatto non è una mappa ok e quindi già da qui posso cominciare ad aggiungere immagini e altre cose e poi si va avanti domande volevo sapere se oltre a un client diciamo nativo come questo se era presente anche un'applicazione web sia per quanto riguarda la visualizzazione dei layer con l'interrogazione dei metadati sia anche magari una forma seppur più semplice di progettazione allora talk successivo è proprio su creare mappe web non una ma mille cioè ci sono un sacco di possibilità no per la composizione della mappa quindi queste operazioni qua molto probabilmente conviene usare un software desktop cioè quindi l'operazione di scelta dei layer ce n'è anche di più semplici cioè openjump per esempio sempre open source poi ce n'è di più complicati magari per fare analisi idrologiche eccetera per cui QGIS stesso ha anche un applicativo server quindi io all'interno del progetto per esempio su queste cose qua posso sulle proprietà del layer posso già impostare nel momento in cui io lo pubblico su un server posso impostare i metadati che voglio andare a vedere anche se poi sulla codifica dei metadati c'è un sacco di problemi ecco qui la scheda sul server questa è l'url che si vede a livello di server WMS che è il protocollo diciamo fondamentale per le mappe e ad esempio ieri forse parlavo del catastro quando mi connetto a un server ottengo l'elenco dei layer dei layer disponibili e poi posso caricarne uno però mi viene sempre mandata una mappa quindi QG stesso può essere installato su un server gira come fast CGI e quindi una volta che ho predisposto questo progetto qua non faccio altro che fare l'upload sul server e mi vengono visualizzati i layer così come li ho messi qua molto semplice l'azione quindi è completa diciamo cioè il QG sta si o in ogni caso nell'ecosistema dei GIS open source si riesce a fare veramente di tutto cioè la gestione di tutto il dato geografico della nuova infrastruttura è fatta tutta con strumenti open source c'è da piangere perché purtroppo di quell'appalto di Regione Veneto non torna niente alla comunità però c'è un problema di appalti e altre cose però comunque è molto completo magari bisognava un attimo focalizzare però ecco su Facebook mi hanno chiesto un giornalista dice io volevo fare volevo pubblicare con Tableau una zona alcuni dati sulle frane prendendo i dati dall'ISPRA quindi fare una semplice mappa e pubblicarla online lo si può fare tranquillamente con QG se poi si va a generare una pagina HTML di questo tipo e qua già anticipo l'argomento del layer successivo quindi con un layer interrogabile questi sono gli attributi questi sono gli stili che ho scelto prima e questa comunque è sempre un servizio WMS cioè la parte dell'area franabile questa è un'area pericolosità elevata secondo il piano assetto idrogeologico insomma per cui sì sì sicuramente la cosa è completa c'è la possibilità di avere dei client web che integrano anche strumenti di disegno e di misura però lì si rischia di fare delle applicazioni web incredibilmente pesanti che vanno a replicare e io un pochino cerco di non farlo perché si rischia di replicare tutte le funzionalità di un GIS desktop ma visto che comunque cerco di promuovere i GIS open source dico se uno effettivamente ha bisogno di disegnare le zone del suo piano urbanistico non è il caso che lo faccia su un client web insomma è più veloce è più semplice è più versatile farlo comunque con un client desktop altro? grazie qua no volevo precisare che su questo ho la fortuna di lavorare in uno studio di architettura e su questo software è veramente lo standard de facto io sono arrivato più tardi rispetto agli altri miei collaboratori lì io sono programmatore loro sono tutti architetti e lì tutti sapevano usare questo software a livelli professionali e lo usano per qualsiasi cosa per gestire le ciclabili per gestire qualsiasi cosa del comune il catasto appunto eccetera e come client è la soluzione più efficiente per contribuire su dati anche grossi mentre su web sarebbe molto inefficiente questa cosa cioè sarebbe si potrebbe probabilmente fare ma sarebbe beh su ci sono vari editor web ma non va un attimo configurato evidentemente è molto più difficile esatto però come client anche se se abbia un server però come client l'interfaccia desktop locale è molto più efficiente rispetto a un'interfaccia web che invece non ce la faccio javascript non ha l'efficienza di un'applicazione negativa ma si evidentemente si si è una cosa una roba ovviamente si cioè camp di donazioni quindi sarebbe sempre auspicabile che le varie le varie persone appunto che lo sanno usare e che lo usano per attività professionale magari ogni tanto insomma potessero anche contribuire a questo elemento c'è comunque la pagina adesso forse sulla pagina italiana la la perdo praticamente però c'è proprio una pagina in cui noi abbiamo in cui vengono pubblicate comunque tutte le le donazioni adesso francamente l'ho persa Enrico ti ricordi tu dove te l'hai? Nell'elf del programma ok per esempio nel programma troviamo sia la map l'elenco degli sviluppatori praticamente e vedete che in Europa e in Italia come dicevamo prima siamo e poi abbiamo un link alla lista delle donazioni insomma per cui a me tengono ancora quest'anno in realtà devo ancora sganciare un obolo però quello che il valore che uno gli dà al programma 5-10 euro è giusto che arrivino anche per capire effettivamente quanto viene utilizzato è lo standard de facto perché viene pubblicato un dato in esi shapefile e quando qualcuno chiede sì ma come lo apro beh scaricati QGIS poi sulla possibilità insomma ho visto anche il mio ordine aveva lanciato un corso di QGIS con una persona senz'altro bravissima ricercatore Uav però che inizia dicendo QGIS è un ottimo software gratuito bene se la motivazione è quella è un po' zoppa cioè presumo che tutti sappiamo che il software libero è qualcosa di più che un software gratuito anche perché poi incontri per la strada veramente persone che dicono ah sì QGIS è fatto da volontari che hanno tanto tempo libero no quello magari è il canile dell'empa però cioè è un'attività professionale e sono professionisti che hanno iniziato a svilupparlo per la propria attività professionale e un'attività per la propria